La scatola nera, quella degli aerei anche sulle auto private e sugli autobus pubblici per smentire i finti incidenti e quindi abbattere i costi spropositati delle polizie assicurative. Siamo allo sportello tecnologico del Codagons e dal nostro tecnologo Donato Pace. Ingegner Pace, cosa dovrebbe registrare la scatola nera e quali novità potrebbero esserci se venisse istituita anche per le quattro ruote e per i bus del trasporto pubblico? La scatola nera dovrebbe premiare i virtuosi e far sì che paghino molto meno rispetto a chi ha un'andatura accelerometrica più alta e quindi pericolosa. Noi abbiamo pensato di estendere questo concetto della scatola nera ai mezzi di trasporto, però attenzione, parlare solo di scatola nera che registra la velocità e l'accelerazione non è sufficiente perché l'incidente potrebbe comunque essere creato ad hoc. Teniamo presente il classico colpo di frusta che oggi una compagnia di assicurazioni è costretta a sostenere un costo che va dai 5.000 fino ai 12.000 euro. Di conseguenza, moltiplicate per n mezzi di trasporto, provate a immaginare cosa significherebbe. Benissimo, all'interno del mezzo di trasporto il Codagons e sportello tecnologico ha pensato ad un sistema tecnologico informatico in grado di monitorare non solo cosa accade all'interno del mezzo di trasporto, ma correlarlo all'accelerazione e alla velocità. Perché l'accelerazione? Bene, quando un mezzo di trasporto frena, le persone tendono ad andare in avanti, c'è un'accelerazione negativa. Quando invece il mezzo di trasporto accelera, le persone andranno al contrario, indietro. Di conseguenza, correlando un tracciato, sovrapponendolo alla traccia video, sarà possibile registrare l'andamento e sarà possibile, in presenza di denuncia di sinistro, che l'autobus in quel momento realmente ha fatto un'accelerata o decelerata che possa giustificare questo incidente o non possa giustificare la simulazione. Tenete presente che le compagnie assicurative, quando mandano un perito a fare la perizia, il perito stesso si trova in difficoltà e non è assolutamente tutelato quando si trova davanti un delinquente che vuole a tutti i costi avere ragione. In questo modo, piuttosto che costringere il perito, ed è anche giusto che lo faccia, che debba indagare, ma gli diamo i mezzi che consentono oggettivamente e non soggettivamente di monitorare e quindi salvare a distanza queste informazioni e nel tempo il cittadino furbo verrà praticamente scoperto e quindi sarà impossibile riuscire a raggirare il meccanismo. E quindi anche un perito compiacente, perché esistono anche periti compiacenti, che quindi fanno perizie a vantaggio del danneggiato perché semmai poi dividano la torta. In questo caso non sarà più possibile perché questo mezzo tecnologico e informatico, che è protetto anche da manomissioni, tutelerà le assicurazioni e il costo del biglietto.